Ti interessa ottenere più vantaggi con un semplice accessorio? Adesso te lo spiego. Quelle poche volte che mi sono trovato senza un portapesci in cintura è stato come un handicap, non potrei mai farne a meno. Appena catturo una preda posso velocizzare l'azione di pesca senza l'obbligo di andare alla boa a lasciare il pesce con il vantaggio che posso continuare a controllare il punto di pesca. Aiuta anche a mimetizzarsi in modo naturale. Il leggero movimento dei pesci in cintura incuriosisce le altre prede. Inoltre i liquidi persi dai pesci in cintura vengono percepiti dalle prede nei dintorni per cui si incuriosiscono ancora di più. Il kit è composto da due elementi che si possono applicare in cintura anche senza togliere i piombi. Questi supporti hanno anche un comodo anello a D che consente di agganciare dei moschettoni. Lo spillo ha una misura ideale e una comoda testa AV per aiutare l'inserimento. Il filo non assorbe liquidi per cui non ha cattivi udori. È molto liscio quindi non rovina i pesci. Lo speciale moschettone leggero è molto comodo non fa riflessi e nemmeno rumori e serve per agganciare e sganciare velocemente l'estremità del filo. Una specifica mini-bitta nel supporto consente al filo di essere regolato a misura. In conclusione è un prodotto studiato per chi desidera migliorarsi anche attraverso piccoli accessori. Prova a chiedere della linea accessori con tutti i suoi prodotti al tuo negoziante di fiducia. Se vuoi conoscere nuovi aggiornamenti e avere maggiori informazioni vai sul mio sito marcobardi.com poi seleziona attrezzature e infine linee accessori. Troverai tutto quello che ti serve. Oppure visita il sito ufficiale C4 Carbo. Se invece hai delle domande o delle curiosità su questo prodotto o su altri scrivilo direttamente sotto a questo video. risponderò il prima possibile. Ciao! Per saperne di più segui Marco Bardi sui social network.